Meno incidenti nel 2018 sulle strade della Toscana. L'occasione per fare il punto è stato il convegno La vita è preziosa, non perderla per strada, organizzato a Firenze dalla fondazione Claudio Ciai Onlus, nata nel 2014 per aiutare le vittime di incidenti stradali e di infortuni sul lavoro. Presente l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli. Gli incidenti stradali sono stati 15.823 con una diminuzione dell'1,7% sul 2017 e con un calo di ferite e di vittime dell'1,9 e dell'11,2%. I morti in ogni caso sono stati 239. Dal 2015 sono stati finanziati 103 progetti con 7 milioni di euro e 15 milioni di investimenti e contano molto i comportamenti sulla strada. È fondamentale quando chiunque si mette alla guida di un mezzo avere una condizione di sobrietà, non avere assunto alcol, droghe o a volte anche medicinali che possono incitere negativamente sull'attenzione sulle condizioni di guida. E poi l'altro aspetto è quello relativo al rispetto delle regole di iniziare da limiti di velocità. Gli incidenti, così come ferite e decessi, sono diminuiti secondo l'osservatorio regionale sulla sicurezza stradale sia sulle strade regionali che urbane ed extraurbane. Più incidenti invece sulle autostrade ma con meno morti e feriti. Le strade con maggiore frequenza di incidenti sono la strada regionale 66 Pistoiese, la 435 Lucchese, la 436 Francesca e la FIPILI. Le vittime sono di solito utenti vulnerabili come pedoni, ciclisti e motociclisti. Spesso ci si mette alla guida non essendo consapevoli che il nostro veicolo si può trasformare in un'arma, quindi dobbiamo stare attenti e una cosa che mi preme sottolineare è che quando si parla di incidenti stradali non si parla di fatalità, ma sono dovuti comunque a comportamenti scorretti che si hanno mentre si guida.